Il maltempo cancella l'evento in programma questa sera al Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona. Era atteso il noto attore Michele Placido per una serata tutta da gustare con la lettura dei versi ovidiani e il coinvolgimento dei liceali del classico, ma si tratta solo di un rinvio, come fa sapere il dirigente scolastico del polo umanistico Caterina Fantauzzi. La lettura ovidi si svolgerà nella prossima data utile che sarà comunicata a breve. L'accreditato attore, nello spettacolo Felices di Belli, dovrà declamare dei passi tratti d'amore, Sars Amatoria, Remedia Morris, tutte opere di Ovidio. Lo spettacolo si avvale della regia del musicista e compositore Davide Cavuti, che ha curato anche l'elaborazione del testo e le musiche originali. Michele Placido interagirà anche con gli studenti del liceo classico, che sul palco reciteranno versi latino del poeta sulmonese, e arricchiranno la serata con alcuni interventi musicali curati dalle docenti Antonella Gentile e Sabrina Cardone. Si dice che l'attesa aumenta il desiderio, tant'è che a giorni si dovrebbe conoscere la nuova data. Un'altra occasione per il rilancio del Teatro Caniglia, dopo il grande successo dello spettacolo Una giornata particolare di Giulio Scarpati, che ieri ha mandato in visibilio il pubblico sulmonese.